È solamente l'ultimo degli sfregi perché è una vigna monumentale, ma tutto il territorio di loro sciuffenna o comunque anche degli altri comuni sulla Sette Ponti, ormai da Reggello fino a Castiglion, Fibocchi ed oltre, è stato sfregiato ambientalmente da questi piromani che io considero veramente dei malavitosi. Un incendio al giorno lungo la Sette Ponti da più di una settimana e nelle ultime ore l'ennesimo rogo. Una piromana è infatti dato fuoco a parte del vigneto monumentale, la vigna delle Sanzioni, che si trova nel comune di loro sciuffenna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi per domare le fiamme, oltre ad alcuni abitanti della zona. L'intervento fortunatamente è riuscito ad arginare i danni, ma in ogni caso parte del raccolto autunnale è andato perduto. Questo è un periodo veramente difficile, chiaramente il clima meteorologico non è dei migliori da questo punto di vista, però dobbiamo essere attenti a quello che sta succedendo. Le forze dell'ordine adesso stanno esaminando i filmati della videosorveglianza della zona, nella speranza di riuscire ad individuare i responsabili. Speriamo ci portano ad avere presto contezza di questi eventi che sono sicuramente malavitosi. L'appello adesso è quello alla massima attenzione da parte di tutti. Abbiamo un centro interprovinciale di avvistamento antincendio e siamo in grado di poter raccogliere tutte quelle segnalazioni che i cittadini si sentiranno di fare. Un po' come ha detto stamani il capo della protezione civile nazionale, in questo periodo di grande calura qualsiasi segnale di fumo che i cittadini vedono possono segnalarlo alle autorità competenti.